Buonasera, buonasera a tutti e buona Pasqua. Ringrazio il professor Rucheldi, Primario di Pneumologia del Policlinico Gemelli che questa sera mi accompagna nel corso di questa conferenza stampa. Ringrazio anche Susanna Di Pietra che anche oggi ci assiste nel corso di questa comunicazione. Partiamo con il bilancio di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 102.253 con un incremento di 1.984 pazienti in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il dato dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedalieri. Oggi infatti i pazienti in terapia intensiva sono 3.343 con una riduzione di 38 rispetto a ieri e il numero dei ricoverati con sintomi 27.847, 297 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 71.063, pari al 69 per cento del totale. Oggi il numero dei deceduti è di 431. Il totale delle persone guarite invece sale a 34.211, 1.677 in più rispetto a ieri. Rispetto al dato di ieri voglio segnalare che la provincia autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo delle persone guarite verificando una diminuzione di 110 persone rispetto a ieri. Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento di 4.092 nuove persone contagiate che porta il totale complessivo dei casi affetti da coronavirus a 156.363, comprensivi quindi sia delle persone attualmente positive che di quelle decedute che delle persone guarite. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare ancora una volta il numero straordinario eccezionale dei nostri volontari e delle volontarie che sono in campo oltre 19.220 che è il numero più alto registrato fino ad ora. A loro si aggiungono le forze dell'ordine, le forze di polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario e il personale delle regioni in genere. Ultima comunicazione che volevo fare è quella relativa a un provvedimento che ho firmato oggi. Oggi ho firmato un provvedimento per l'assistenza e per la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o che sono giunti sulla terraferma sul nostro territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. Questo provvedimento si è reso necessario dopo il provvedimento interministeriale di qualche giorno fa che ha dichiarato i nostri porti non sicuri perché, come sapete, nel nostro Paese abbiamo questa situazione sanitaria di particolare sofferenza per il coronavirus. Quindi abbiamo individuato il Capo Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno in qualità di soggetto autotore per assicurare la sorveglianza sanitaria con il supporto delle Croce Rossa e delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che voglio ringraziare per il supporto e per l'attività che presteranno. E di fatto il Capo Dipartimento delle Libertà Civili e delle Immigrazioni procederà all'individuazione di navi o aree o strutture sulla terraferma dove garantire la quarantena da parte dei migranti. Questo meccanismo sarà applicato per la prima volta per i 156 migranti che sono attualmente sulla nave Alan Kurdi. Io mi fermerei qui. Darei la parola al Professore Richeldi. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli. Io sarò molto breve anche perché i dati direi che fortunatamente sono piuttosto chiari. Vorrei intanto, come al solito, dare un attimo di cautela sull'interpretazione del dato del totale dei positivi. Come sappiamo questo è un dato che è molto dipendente dal numero dei test che vengono effettuati e sappiamo che in maniera positiva il numero di test nel nostro Paese sta aumentando di giorno in giorno. Quindi stiamo facendo più test che è una cosa ovviamente utile per capire meglio l'epidemiologia dei malati ma è anche una misura che in qualche modo falsa il numero dei positivi perché più test facciamo e più ovviamente è più facile che noi troviamo dei positivi. Meno ne facciamo e meno ne troviamo. Quindi questo è un dato che è un dato confortante, è un dato che va nella dimensione giusta, nella direzione giusta però quantitativamente un pochino meno preciso ed affidabile. Ci sono però tre dati che sono molto numericamente affidabili e che ci dicono qual è l'impatto in questo momento di questa pandemia sul nostro sistema, sul nostro servizio sanitario nazionale. I ricoverati. È una settimana che ogni giorno abbiamo un dato negativo sui ricoverati, cioè i ricoverati calano ogni giorno rispetto al giorno precedente ed oggi è il calo numericamente più consistente con meno 297 ricoverati. Quindi riduzione sulla pressione dei nostri reparti. Il secondo dato è il dato della terapia intensiva. Come sapete questo è un dato critico perché le terapie intensive sono un numero limitato perché le terapie intensive sono quelle che si prendono cura dei pazienti più gravi e purtroppo le terapie intensive sono quelle nel quale c'è la massima mortalità. Bene, questo è il nono giorno consecutivo di segno negativo di ricoveri nelle terapie intensive e credo che questo sia un trend che ormai è un trend piuttosto affidabile perché nove giorni consecutivi di riduzione significa che siamo riusciti con i nostri comportamenti di distanziamento sociale a ridurre la pressione su quello che era il punto cruciale e il punto chiave del nostro servizio sanitario nazionale, le terapie intensive. Terzo punto, nota sempre triste, ovviamente ancora più triste nei giorni di festività e io sono molto vicino naturalmente, siamo molto vicini a tutte le persone che hanno perso in questa tragedia una persona cara, è quello dei deceduti. Nelle ultime due settimane oggi è il giorno che registra il numero minore di deceduti, 431. Sono tantissimi ancora però devo dire che dobbiamo guardare ancora una volta ai trend e mettendo insieme la riduzione del numero dei ricoverati, la riduzione del numero dei pazienti che vanno nelle terapie intensive e la riduzione del numero dei deceduti, credo che questo insieme ci faccia vedere che le misure che sono state adottate, che sono state prorogate dal nostro Governo, stanno avendo un impatto sulla diffusione di questo virus. Grazie, diamo spazio alle domande. Buonasera, Angela Caponetto, ReNews24. In merito proprio all'ordinanza che ha firmato lei oggi, volevo qualche chiarimento in più su come ci si organizzerà per l'accoglienza a terra, che tipo di supporto verrà dato anche da protezione civile. Lei ha detto che intanto per la prima volta verrà applicato sul caso Alancurdi, ma che sarà applicato anche nel caso degli sbarchi autonomi. Abbiamo sentito che a Pozzallo oggi proprio sono sbarcati autonomamente un centinaio di migranti e il Sindaco ha dovuto insomma organizzarsi come poteva in quella circostanza. Ecco, se ci può dare qualche chiarimento in più. Grazie. Sì, c'è l'esigenza di garantire anche per i migranti che sbarcano la sorveglianza sanitaria, quindi la quarantena e l'isolamento. Per questo il Dipartimento delle Libertà Civile e l'Immigrazione creerà delle strutture o delle aree sulla terraferma ma utilizzerà anche delle navi dove poter ricoverare i migranti in attesa del periodo di quarantena. Terminato il periodo di quarantena i migranti saranno gestiti secondo quelle che sono le procedure ordinarie. Ci sarà anche un supporto sanitario per quanto riguarda le richieste che sono state fatte da chi a terra deve fare l'accoglienza, quindi mezzi sanitari, mascherine, tutto quello che può essere utile per chi deve accogliere? Sicuramente. Non a caso io ho menzionato la Croce Rossa e la Croce Rossa darà un supporto insieme a del personale sanitario perché qualora il soggetto autotore dovesse trovare una nave per consentire per chi è in mare di fare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento ci sarà del personale sanitario che assisterà i migranti e la Croce Rossa, come sapete, è una struttura che ha personale sanitario quindi ci sarà anche la sorveglianza sanitaria così come deve essere nel rispetto di tutte quelle che sono le regole anche relative all'uso dei dpi e all'assistenza che deve essere garantita. Buonasera, sono Cecconi del Tg3, una domanda per Richeldi perché oggi sulla stampa, insomma alcuni giornali si citava un'opinione di anatomopatologi che dicono le morti sono causate anche dal fatto che gli alveoli, mi perdoni se non uso i termini giusti, si chiudono per la coagulazione del sangue e dunque l'eparina quindi l'anticoagulante farebbe effetto, è l'ennesima diciamo cura che sentiamo promettere bene. Le chiedo proprio per capire se è una fake news, se ci dobbiamo credere, che opinione ha lei che è pneumologo? Sì, certamente questa è una notizia che è stata generata dal fatto che si sono incominciate a fare riscontri autoptici in questi pazienti e in alcuni se non in un numero consistente di questi si è visto che ci sono delle microtromboembolie a livello polmonare. Ora questo è un riscontro abbastanza frequente in tutti i pazienti che decedono nelle terapie intensive, tant'è vero che i nostri intensivisti utilizzano l'eparina a basso peso molecolare come strumento profilattico in tutti i pazienti che vengono ricoverati. Se in questa infezione da coronavirus ci sia un'aumentata incidenza di fenomeni tromboembolici, di fenomeni pro coagulativi, questa è una cosa che ancora non sappiamo. A questo proposito ne approfitto ancora per consigliare a tutti i cittadini di visitare il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il sito dell'AIFA che ieri ha pubblicato un documento su questo tema in cui analizza brevemente i dati che sono emersi e raccomanda e anzi stimola la sottomissione di studi controllati per verificare questa ipotesi. Ancora una volta fidiamoci delle istituzioni, fidiamoci del metodo scientifico. L'AIFA è pronta a ricevere proposte di studi sull'utilizzo di farmaci anticoagulanti in questa patologia che ovviamente devono essere regolati e controllati al fine di dare un riscontro certo a questa ipotesi. Al momento è un'ipotesi, è un'ipotesi anche plausibile che però, come tutte le ipotesi in medicina, richiede una prova. Buonasera, sono Filomena Rorro. Di chi l'ha visto Rai3, una domanda per entrambi. Riguardo ai dati che ci ha fornito ogni giorno, mi riferisco soprattutto ai decessi. Quanto sono reali? Ad esempio tra questi rientrano anche le persone che purtroppo sono morte e a cui non è stato fatto il tampone. Mi riferisco per esempio al professor Valli, di cui abbiamo parlato anche ieri, il medico ginecologo che è morto a Roma pochi giorni fa, a cui non è stato effettuato il tampone pur avendolo richiesto. Oppure il caso del signor Gennaro Leardi che aveva contratto il virus all'ospedale di Alzano. Gli era stato fatto il tampone, risultato positivo, mandato a casa in isolamento, poi purtroppo dopo alcuni giorni trovato morto in casa. Ma il medico legale sul certificato di morte ha scritto come causa della morte infarto, insomma arresto cardiaco. Ecco, rientrano questi casi? Allora rispondo io qui perché credo di saperne qualcosa di più del professore. Come sapete questi dati vengono raccolti sul territorio, arrivano al Ministero della Salute. I dati che a noi vengono forniti sono coloro i quali sono positivi e quindi sono o guariti o poi sono deceduti. Quindi coloro i quali vengono catalogati, classificati, individuati come positivi nel triste epilogo di morte vengono conteggiati tra i morti, tra i deceduti. Questo è il dato di cui noi disponiamo. Quindi le persone che sono morte, pur avendo i sintomi del covid, come per esempio il dottore, ma tanti altri casi, non rientrano in questi dati. Quindi non sono... Le persone che non sono clinicamente considerate positive, credo che non siano contemplate in questo conteggio, perché sarebbe difficile ricomprenderli senza sapere se sono effettivamente positivi o no. Grazie. Prego. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Ho una cosa da chiederle, dottor Borrelli, rispetto alla task force del dottor Colau. So lei che fa parte della task force. Tanto se potesse in qualche modo chiarirci i veri obiettivi di questa task force. Sì, è per le riaperture in linea di massima e sappiamo che di fatto affronta due tematiche fondamentali, la parte economica e quella sociale. Quella sociale fino a 3 maggio fondamentalmente credo che non possa cambiare poi molto, anche se quella economica invece avrà delle novità. Al professore volevo chiedere invece rispetto alle RSA qualcosa, perché è un po', come dire, è il caso di questi giorni. fondamentalmente le RSA sfuggono al controllo di qualsiasi controllo e sembra anche regionale, governativo, eccetera. Da lì ci sono diverse procure, tra l'altro, che si stanno muovendo, oltre a quelle lombarde, abbiamo visto la Toscana, le Marche e ci saranno l'Emilia Romagna. Quindi, le RSA che tipo di problema stanno creando nel conteggio proprio, vero e proprio, e soprattutto come farvi fronte. Abbiamo delle testimonianze, raccogliendo anche del materiale all'interno di molte RSA, per cui il consiglio iniziale era proprio quello di non indossare le mascherine per non spaventare i pazienti. E questo vorremmo anche che, oltre a lei, a voi, naturalmente le procure penso che faranno luce su questo. Grazie. Allora, partiamo dalla Task Force. Come sapete è stata istituita la Task Force. Ieri sera c'è stata, con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la prima riunione dei componenti della Task Force. Della Task Force fanno parte anche il Commissario Arcuri e il Sottoscritto. La Task Force avrà il compito di prefigurare come dare concretamente avvio alla fase 2, la ripresa delle attività produttive, ma ha anche una visione più ampia di come ripensare le attività economiche e sociali. Oggi stanno lavorando, si sta lavorando, il Professor Colau sta lavorando anche oggi. Nei prossimi giorni si lavorerà. E si dovrà poi portare al Presidente del Consiglio dei Ministri questa Task Force. Dovrà portare un ventaglio di soluzioni, di proposte, che saranno poi valutate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Governo nella sua interezza. Per quanto riguarda le residenze sanitarie assistite, ovviamente non entro nei problemi legali o delle procure che non mi competono e che credo certamente troveranno poi una risposta nelle settimane o nei mesi futuri. Questo si sapeva fin dall'inizio che sarebbero stati dei punti di potenziale diffusione del virus e soprattutto di aumentata letalità. Le persone che sono accolte nelle residenze sanitarie assistite per definizione hanno bisogno di assistenza, per definizione hanno una situazione sociale diciamo fragile e quindi come tali sono molto più vulnerabili non solo a questo coronavirus ma a tutta una serie di infezioni per cui la mortalità è molto alta. Per questo motivo l'Istituto Superiore di Sanità ha cominciato fin dai primissimi giorni a monitorare la situazione dell'RSA e ha già prodotto due versioni di un documento che è agli atti della Commissione Tecnico-Scientifica per monitorare specificatamente l'RSA e per avere diciamo un piano di controllo di quello che può essere la diffusione all'interno di queste strutture perché ovviamente si prevede che a parte quello che è successo su cui magari non siamo noi deputati a giudicare ma quello che verrà sarà molto importante. Avrà notato che nel Lazio e in altre regioni sono state create delle zone rosse addirittura dentro l'RSA cioè RSA che sono state svuotate o che sono state chiuse proprio perché sappiamo che quello è un punto assolutamente crociale di definizione. L'Istituto Superiore di Sanità in accordo con la Commissione Tecnico-Scientifica, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il Consiglio Superiore di Sanità ha in atto un piano per il controllo della diffusione del virus all'interno dell'RSA che insieme ai nuclei familiari saranno in futuro quando speriamo la diffusione del virus comincerà a diminuire in maniera significativa i potenziali, tra i principali potenziali luoghi di nuovi focolai. Quindi le garantisco che l'attenzione sull'RSA è massima e c'è un piano che è già in fase molto avanzata di preparazione per dare il massimo del controllo agli ospiti di queste strutture e ovviamente anche al personale che lavora dentro queste strutture. Bene, grazie, grazie a tutti e buonasera.